buongiorno e benvenuti al consueto primo ed ultimo appuntamento con questa rassegna di cosa parleremo oggi gli speleologi hanno appurato che in alcune zone della terra l'acqua non galleggia come mai andiamo ad analizzare assieme per poterlo fare abbiamo bisogno di tre bicchieri come vedete sono perfettamente allineati di tali loro e differenziano per forma e dimensione cosa significa questo più piccolo il bicchiere minore sarà il liquido che vi entrerà all'interno non ci credete facciamo questa prova entrato un quantitativo di acqua piuttosto risorio però si lo metto qua dentro resterà spazio a sufficienza per ospitare dell'altro fatto questo noterete subito da un'attenta analisi come l'acqua in superficie galleggia sul fondo si deposita come mai bella domanda bella domanda questo dipende molto dalla forza di volontà abbiamo capito che anche qui l'acqua galleggia secondo un noto principio fisico un corpo immerso in liquido si bagna in effetti in effetti anche questo l'abbiamo dimostrato basta credo sia più che sufficiente andiamo per gradi non voglio sovraccaricarvi di nozioni magari ci sentiamo domani così avrete il tempo di metabolizzare le nozioni che abbiamo studiato oggi ciao a tutti